Zeman alla Roma, questione di giorni o forse di ore. Una settimana quella che si sono dati il tecnico e la società per bocca del presidente Daniele Sebastiani, quindi non prima di lunedì. E invece già venerdì potrebbe essere il giorno dell'annuncio. I dubbi invece sul futuro del boemo sono davvero pochi, almeno ascoltando lui quando parla in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e racconta del contatto con la dirigenza giallorossa e sembra quasi il nuovo allenatore di Francesco Totti, uno che aveva già conosciuto nella prima esperienza capitolina. Ho parlato con la società e penso che siamo a buon punto. Secondo me Totti se dimostra che è più bravo in quel ruolo giocherà sempre. Ho avuto tanti campioni che si impegnavano, che volevano crescere, che volevano imparare anche a 34 anni, quindi non è questo. Come ho avuto tanti giovani che non hanno voglia di soffrire, non hanno voglia di fare. Ripeto, lì non decide l'età, lì decide la voglia di che cosa si fa, di prendere la professione sul serio e cercare di fare il meglio possibile. Zeman che muove già i primi fili del mercato dovrebbe bocciare Gago, non ci sarà riscatto, per lui probabile ritorno in Argentina sponda bocca, mentre ieri Antonio Ottaiano, agente di Lorenzo Insigni, ha fatto sapere dalle colonne del sito web Voce Giallo-Rossa che Roma è una destinazione più che gradita dal talento di fratta maggiore, qualora lì sopra si sedesse proprio Zeman. Rimbalzano anche le voci su un ricongiungimento con Marco Sau quest'anno alla Juve Stabia. Insomma, pare quasi tutto fatto, inutile nasconderlo. E allora in casa bianco-azzura si comincia già a lavorare sul nome del sostituto. La prima idea, ancora la più concreta, è quella degli Orossi. Strano il destino, anche per lui come per Zeman sarebbe un ritorno al passato. Lo sarebbe pure per Giampiero Gasperini, che all'Adriatico ha giocato con la fascia di capitano al braccio. Infine la pista affascinante legata al nome di Gianfranco Zola. Puzzle tutto da definire, Zeman potrebbe scatenare il waltzer delle panchine. Basta attendere, questione di giorni o forse di ore. Grazie a tutti.